Noi nella difesa personale dobbiamo essere addestrati a fare la cosa che più probabilmente ci dà ragione. Tanti credono nelle sicurezze nella vita. No. Quando la sera e voi prendete una strada per tornare a casa, quella non è la strada per tornare a casa, quella è la strada che più probabilmente vi ci porta perché fino ad oggi vi ci ha portato. Però magari è chiusa per lavori e diventa giusta un'altra. Uno dei tanti punti deboli di chi studia difesa personale è prendere certezze. Poi gli crolla una certezza, sei finito. Noi lo sappiamo che non è certo quello che facciamo, ci spostiamo su probabilità. Quelli che studiano arti marziali o difesa personale si fissano con le certezze. Il primo pugno che prenderanno gli succederà qualcosa di inaspettato. Mentre voi sapete che quando prendi un pugno tu dici bene, è ovvio, era quello che aspettavo, è normale, fra poco messe pure il sangue. Benvenuto sangue, benvenuto dolore.